Mercoledì è una giornata molto importante per l'Unitalsi Fano e anche per i sacerdoti, le religiose e i religiosi della diocesi perché l'Unitalsi Regionale ha organizzato il Giubileo all'Urrito e da Fano siamo una cinquantina di persone fra suore, frati e sacerdoti che partecipano oltre ai volontari dell'Unitalsi che li accompagnano. Sarà una giornata molto piena perché arrivati all'Urrito ci attende la conferenza episcopale marchigiana, il Cardinal Menichelli faremo il passaggio nella Porta Santa e poi il passaggio dentro la Santa Casa quindi ci sarà la Messa celebrata da tutti i Vescovi presenti e anche da tutti i sacerdoti e poi andremo a pranzo tutti assieme al Palazzo Apostolico. Nel pomeriggio il Rosario è meditato con le meditazioni di Monsignor Trasarti, il nostro Vescovo che è anche delegato per la Pastorale della Salute. C'è ancora qualche posto disponibile? Abbiamo tre o quattro posti disponibili, se qualcuno vuole partecipare bisogna che decide subito e domattina si presenta alle 8.30 al parcheggio di Viale della Giustizia magari se ci chiama prima per avere la conferma della disponibilità dei posti.